Sì, che schifo si vede le mutande. Vai, rotola giù. Sì, che schifo si vede le mutande. Sono tornati sulla terza prova del percorso. Questo non è il mio percorso, ve lo devo creare. Questo dico, cammini sui cosi, poi salto il cestino. Slalom fra bottiglie, poi dovrà fare il trick sulla sedia, andare subito a prendere le due cartelle, poi quando ritorna subito subito canta velocissimo una canzone e ritorna sulla sedia. E quando ritornerà, stopperà il timer. Vai, stop! No, aspetta! Oh no, i miei bambini! No! Devo farlo! I miei bambini, li devo salvare! Oh God! I trick eh! Mi si vede? I trick! Abbandoni! Stop! Vieni! 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 Non ti ho potuto aver fatto un volo? un minuto e sedici ok il nostro caro carissimo merdosissimo si 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 ingropa allora vi spiego non voglio far strozzate salterà su qualcosa farà un trick trick shot entra nel bidone si rotola dentro e ricordatevelo poi cosa fai va alla sedia la prende la alza va in quella specie di bottiglia fa due giri con la sedia sopra sopra poi prende quella quella specie di scopa wow che bel braccio qui il timer normalmente me prende la sedia e va la sopra con la scopa ancora con la scopa si butta con la scopa da lì e vediamo che fine che fa non salire non a sé ok ragazzi via vai 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 che schifo si vede alle mutande vai rotola giù che schifo eccolo 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 fai due giri fai due giri 1 2 ok siamo a tempo 23 veloce vai prendi la scopa prendi la scopa e non scopare ma basta vai salì un attimo di attesa gente vai veloce però metti la scopa in mezzo al culo va vabbè fai quello che cazzo ti pare moviti il tempo è ancora attivo ok 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 seduto interrompi sei seduto allora cazzo che cazzo di casino hai fatto vai aspetta stop raga